Salve salve a tutti cari amici benvenuti o bentornati sul mio canale Faber91 in uno dei miei video Oggi mi è venuta voglia di condividere con voi il mio già alto entusiasmo come già vi avevo accennato prima che uscisse Poi quando è uscito ve l'ho mostrato ne ho parlato sempre con molta felicità e con grandissima euforia Però adesso che siamo già alla quinta settimana consecutiva in cui esce in cui settimana dopo settimana sto riscoprendo, riamando E sinceramente ogni volta che esce puntualmente sono felice di andarlo a prendere e di trovarlo E in più devo dirlo che questa fantastica edizione, sto parlando appunto di Mr. No Soprattutto a persone che ancora si distaccano, fanno finta di non vederlo per non acquistarlo Perché non vogliono imbattersi in questa nuova storia, ignorandolo E si perdono veramente un gioiello Un gioiello perché Mr. No, ora che è tornato finalmente in edicola È uno dei due personaggi che se si comincia a leggere Si va praticamente in bambola e si vede completamente rapiti da queste avventure Che quando li leggi comunque c'è sempre quel sorriso Nonostante poi a Mr. No capitano di tutto e di più Ma non solo lui, anche i suoi tra virgolette sfortunati che gli chiedono aiuto nei loro problemi che hanno Lui che era andato in Brasile per trovare pace E già questo mi fa sorridere perché se uno pensa che Mr. No era andato Che genio Era andato in Brasile per riposarsi, per trovare pace dopo che aveva combattuto nella seconda guerra mondiale Dopo che aveva visto la morte, dopo che lui stesso aveva dato la morte Perché aveva combattuto, quindi anche lui era stato un soldato E che poi si ritroverà invischiato in tutte queste peripezie In tutte queste incredibili avventure Già quello fa ridere Però ragazzi, tocca dire che io questo video l'ho voluto fare perché mi sto rendendo conto Come sto dicendo all'inizio Che settimana dopo settimana si diventa proprio dipendente da Mr. No Cioè, si vede la differenza Perché se tu lo compri in blocco te lo leggi come vuoi Perché oggi, 2201 Instagram Me li leggo come e quando voglio Però Seguirlo se ti... Ecco perché a me piace seguire le cose quando escono Perché quello è il bello, no? L'aspettare, pure se hai una ristampa Però tu comunque lo aspetti E Mr. No Per tutte quelle persone che, dipendo Quando ne dico la compro altre cose lo guardano Magari no, no, Mr. No è vecchio, non si compra Oppure no, Mr. No, niente Però Sono sicuro che proprio quelle persone che si rifiutano Di aprire gli occhi Di dargli una chance di non acquistarlo Se, sono sicuro che se loro lo acquisterebbero E spero che questo mio video non li faccia una bella idea Quelle persone Vanno sicuramente in bambola E sarebbero più Sarebbero loro i primi Ad amarlo più magari di noi E noi ce lo amiamo, no? Ho anche persone più grandi di me Che magari lo seguono addirittura Dagli anni 70 Io Non lo seguo dagli anni 70 Perché non c'era un eronato Però Nel tempo l'ho scoperto perché Però Ora che La canzetta Io Non posso far altro Che ringraziare Proprio la canzetta Già Sostenendola economicamente Dici Già fa tanto No, io voglio proprio Condividere con voi questa E dire che la canzetta Mi ha proprio Mi ha proprio Deliziato E mi ha fatto proprio Riscoprire un mondo Che Ripeto Che No, ripeto Che Mr. No Dà A chi lo segue E devo dire Con l'assoluta fermezza Che di tutte quelle Di tutte le uscite Che alcune Che diciamo Quasi tutte interrotto L'unica Che Riesce a lasciarmi Con pathos Con appiglia E con voglia Di Continua a leggere È Mr. No Di tutte quelle che sono uscite Di Mark Vabbè Black Mickey Non l'ho comprati Però Storia di Quest Eppure È bella Storia di Quest Capolaro Assolutamente Però Mr. No ragazzi È Mr. No E me ne sono reso conto Da Diciamo dal terzo Perché da I miei due Mi sono piaciuti In modo Poi dal terzo Che la storia Come esce da Volibers E entrare ancora Nel personaggio Una volta detto il terzo Il quarto e quinto Mi sto rendendo conto Stamattina Ho preso il cinque Oggi è giovedì L'ho acquistato Però questo Lo devo ancora leggere Però Devo Questa storia È proprio In un modo Tramoroso Perché Era iniziata Col Col numero quarto Col numero quattro Mort nel Sertau E adesso Che ci sono Mr. No Che si è messo A favore della lotta Con questi Kangasero Come ho già detto Si Kangasero Esteticamente Per quello che fanno Sono dei Per come sono Disegnati Con Questi cappelli Sono Sono dei personaggi Che mi piacciono Moltissimo E sono Un sostenitore Del Kangasero E adesso Siamo arrivati Stamattina ho preso La vendetta E con questa Con questa Storia Si concluderà La serie Iniziata Quella prima Già Nel prossimo Inizierà Un'altra Ragazzi Io Voglio Elogiare E promuovere A pieni voti Questa serie Dico Che va A tutti quanti Quello che ancora Non l'hanno fatto Ho già dedicato Video Dovete Non potete Trovare scuse Dovete assolutamente Comprare Mr. No Assolutamente Questa serie Non può mancare Assolutamente Nessuna collezione Chi si diffide Deve che comprarla Perché Non l'ha Allora Poi se Non l'avete mai letto Dovete Cioè Se acquistate Se acquistate Io lo dico Più che altro A chi acquista Fumetti Se acquistate Fumetti E non avete ancora Acquistato Mr. No Dovete farlo Assolutamente Perché È un mondo Che se Diciamo a cavare Il fumetto Mr. No È stato Il primo Antero per eccellenza Il primo Che Andava contro Le regole Beve Fuma Fa quello Che vuole E Diciamo Sotto Sotto Tutti i punti Di vista Per come è scritto Per come è caratterizzato Anarchico Fa quello Che gli pare Però Lo fa Rispettando Gli altri Avendo una sua Etica Morale Serie Giustizia Che di dovere E soprattutto Se c'è qualcuno In difficoltà Lo aiuta Anche Senza Pensare Al suo Resoconto Personale Basta pensare Che al numero Quattro Già O al numero Mi pare Al quattro Artezzo Insomma Aveva fatto No sì Al numero tre Si era Si era fatto Nell'ultimo Gangaseiro Si era fatto Assumere Da questo Da questo Ribello Da questo colonnello Per fare un giro Col Piper Poi dopo Questo colonnello Fa sparare Addosso Gangaseiro E questo Mi pare Diecimila O centomila Dollar Si dollar Che moneta Usano E mister No li strappa Perché dice Tu Mi hai fatto fare Una 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 cosa Che non volevo fare Mi hai costretto Con l'inganno A rendermi partecipo Di un Efferato Atto Criminoso E quindi Io strappo I soldi Perché per lui I soldi Non sono niente Sono soltanto Pezzi di carta Che infatti Io sto qui Lui In l'Amazonia In Brasile Per riposarsi Per staccare la spina E per fare quello che vuole Dopodutto L'orrore Ambulanza Dopodutto L'orrore Che ha visto Nella guerra Quindi per lui Non conta niente Lui basta Fuma Beve E ogni tanto Incompagna qualche Dota Credo E' anche giusto Che sia così Insomma Quindi E' un personaggio Appunto Che va contro E poi ragazzi E me Mi devo preparare A me Ferri Rimane Per quanto riguarda Le Le copertine Ragazzi Ferri Ferri Cioè Ferri E' uno dei massimi Dei più grandi Disegnatori Mai stati Mai Esistiti Per il panorama italiano Queste copertine Sono spettacolari I testi di Bonelli Sono Nolitta Alias Bonelli Sono favolosi E soprattutto Anche questi disegni Di bignotti Che adesso C'è bignotti In queste storie Sono bellissimi E il colore E il colore Ragazzi Il colore Sta benissimo Anzi Il colore Lo rende più bello C'è chi lo preferisce Il branchetto Però Sono sicuro Nessuno si è lamentato Anche dei vecchi lettori Di Mr. No Nessuno si sta lamentato Dei colore Perché La maggior parte Si sono resi conto Che i colori Infatizzano in un modo incredibile E rendono Molto Ma molto Ma molto Più bello Tutto ciò Tutto quello che le avventure Soprattutto la pazzo Accolorata È più bella Ragazzi A me piace Molto di più Mr. No A colori Anzi Sono contento Che sia a colori Deve essere a colori Se fosse stato in me Anche nello Non so se l'avrei preso Sono sincero Con tutto che è bello Perché è bello Sicuramente l'avrei preso lo stesso Però il colore Il colore Ragazzi Rende molto di più È la verità ragazzi Ma beh Di me Nessuno Ne ho sentito mai Lamentarsi Di Di Mr. No A colori Di questa persona A colori Quindi ragazzi Io questo video L'ho fatto Per elogiare E dire Che Mr. No Questa lezione qua È la più bella La migliore fatta Da tutte quelle uscite Senza si senza ma È la migliore Sia di Mr. No Sia di Comandante Perché Sì scusate Sia di Storia Lunguesa Che di Miki Mr. No È la migliore Opera che ha fatto Adesso Perché Mr. No È un personaggio Che è più riconosciuto È più riconosciuto A molti Ma molti più Lettori E sostenitori Di tutti quelli Sia di Con tutto rispetto Mark Tutti quelli Però Mr. No È entrato A più generazioni Perché molti Molti anche ragazzi Del resto Sono più incolositi Rispetto a Mr. No Che è un Comandante Mark Perché giustamente Il Comandante Mark Ha un tipo di generazione Un po' Sì Non superata Un po' Diciamo Di un vecchio stampo Che affascina Però È più difficile Da far digerire A un ragazzo Invece Mr. No Comunque Anche se ha Un timbro Anche lui Si vede Che comunque È anni 70 Però Continua a essere Moderno Perché comunque Quello che fa Mr. No È bello Quindi non ci sono Scusanti Le avventure Le avventure Sono belle Anzi La massogna È bella Proprio Vederla Adesso Perché Tutti Che vanno Su internet Tutti Che cercano Ma La massogna È più bella Viene scritta Così Con la fantasia Quindi Secondo me È più bella Come L'ha Immaginava Il nostro Amatissimo Bonelli Con i suoi collaboratori Con i suoi disegnatori Con Ferri Che ripeto Per me Se non è il migliore È uno dei più grandi Disegnatori Che Abbiamo avuto In Italia Quindi Questo video È Un Obbligo A tutti quelli Che mi vedono Di andare A recuperare Mr. No Se no Non seguite più Il mio canale Scherzo Però ragazzi Se comprate fumetti E non comprate Mr. No C'è qualcosa Che non va Insomma Dovete Rimetare Assolutamente Perché È la migliore Edizione Che ha fatto La canzetta Di tutte Quelle Ditemi tutte Questa Come è così Non cambierò mai idea Perché lo compare Tutte quante E questa è quella Che mi piace Di più Perché Mr. No È un personaggio Che aveva bisogno Di questa edizione E che finalmente Possiamo E non ci sono scuse Di Acquistare E godere Bene ragazzi Io come al solito Non posso far altro Che ringraziare Tutti gli iscritti Che commentano Mettono un piacere Rendono attivo Questo mio piccolo canale Di chi parla Di fumetti Che parla Di mie passioni Questa settimana Di fumetti Ho stato preso Mr. No Quindi a fine settimana Non so se Riuscirò a fare video O acquisto Solo film Solo film e libri Qualche Domenica un video Comunque lo farò uscire Magari fare un video Non so cosa mi verrà in mente Però Stasettimana ho preso Soltanto Mr. No Perché come ho già detto Il budget per i fumetti È un po' di mezzaro Ma anche se A dire il vero Queste settimane Di uscite Non c'è stato Probabilmente niente A parte questo Eccolo Eccolo Che non ho acquistato Perché Non ho acquistato Poi vi spiegherò Il motivo Perché non l'ho fatto Però merita L'acquisto Anche quello Quindi ragazzi Io Vi saluto Vi abbraccio Mettetevi piacere il video Se vi è piaciuto Commentate Ditevi lo che vi pare Iscrivetevi al mio canale In modo che io posso Continuare a pubblicare video Ma Sono contento Perché comunque Mi seguite sempre E commentate E mi dite cose giuste E sono contento Di quello che dite Che fate Vi comportate tutti quanti Bene Avete un ottimo linguaggio Quindi sono contento Voglio che sia così E Soprattutto Vi dico la cosa più importante Che è Comprate Mr. No E come sempre Ci vediamo Al mio prossimo Video